Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenti Channel Oggi sono qui con questo nuovo video e siamo su un video informativo riguardo appunto il mio canale Molti di voi sanno che sta per iniziare la scuola Penso che tutti i miei iscritti vanno ancora a scuola Io per fortuna devo iniziare l'ultimo anno e per me ragazzi l'ultimo anno è molto importante E quindi penso che si ritornerà come prima In che senso? Per chi mi segue già da molto tempo prima dell'estate Sa benissimo che io prima pubblicavo due video a settimana Uno lo facevo uscire per esempio il lunedì o il martedì E l'altro lo facevo uscire nel weekend verso sabato o domenica Adesso ragazzi si ritornerà a quei tempi Come molti di voi sapranno per chi mi segue da quest'estate Io quest'estate ho dato l'anima per il mio canale Veramente faceva uscire tantissimi video Almeno un giorno si e l'altro no usciva almeno un video Qualche volta ho pubblicato due video al giorno Cioè io che pubblico due video al giorno sul mio canale Ma che cazzo siamo fuori di testa ragazzi Veramente incredibile Ma comunque sia detto ciò si ritornerà come prima Per il semplice fatto che devo concentrarmi comunque sia anche con lo studio E vabbè c'è prima il dovere e poi il piacere si dice no? Ovviamente se usciranno DLC eccetera Vi porterò sicuramente più di due video a settimana Se ci sono novità su GTA 6 eccetera Ovviamente vi porterò più di due video a settimana Niente questo era un video informativo Anche perché volevo informarvi un po' di questi cambiamenti che ci saranno sul canale Purtroppo ragazzi l'estate è finita Per chi dovrà iniziare la scuola o ha finito le ferie eccetera Auguro un buon anno Un buon anno scolastico E niente quindi buon inizio scuola ragazzi Mi raccomando impegnatevi E quando avrete tempo libero Seguitemi su Youtube dai Giusto per passare il tempo magari quando tornate da scuola Prima di fare i compiti Guardate un mio fottutissimo video Comunque sia riguardo anche Watch Dogs 2 State tranquilli perché arriverà Watch Dogs 2 sul mio canale Penso che farò poi due video sempre a settimana Magari il primo video riguardo GTA Il secondo vi porterò quelli di Watch Dogs Farò in modo che quelli di Watch Dogs siano più lunghi Quindi aspettatevi video molto lunghi Riguardo Watch Dogs anche perché ve lo gusterete meglio eccetera Niente noi ci vediamo al prossimo video ragazzi Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Passate alla mia pagina Facebook Iscrivetevi alla mia crew di GTA 5 online Ah un'altra cosa dimenticavo Chi volesse fare poi in futuro delle collaborazioni con me Allora se ho dei giorni liberi tipo non ho un cazzo da fare Cosa impossibile Posso anche registrare Oppure o registro la sera tardi ragazzi Oppure registro il sabato Anche perché poi c'è la domenica e quindi non faccio un cazzo O il sabato pomeriggio Quindi non so Poi magari mi mandate un messaggio sulla pagina Facebook La troverete in descrizione E lì poi ci metteremo d'accordo eccetera Noi ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti Ciao a tutti